Unico materiale che il mare e i secoli hanno rispettato. La ricerca sul fatto ai giardini è iniziata prestissimo e sia i giardini che le isoleole sono state antesignate nel campo di queste indagini. Questo è molto importante anche per l'Italia di oggi, in questi momenti di crisi perenni. Con il contatto e il dialogo continuo con gli archeologi... Volere, passione e far grazio... ... 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